Apri il tuo ufficio postale in franchising, siti poste e anche pagamento bollettini, sitiposte.it Un portafogli caduto a terra con dentro 700 euro in contanti e numerose carte di credito. Un episodio che farebbe golo a molti, ma la tentazione a volte viene superata dal buonsenso di chi lo recupera e lo consegna ai vigili urbani. Il gesto di onestà proviene da Tolentino, dove un uomo, accortosi del portamonete smarrito da un 39enne del posto, ha deciso di raccoglierlo, darlo al figlio 45enne che senza pensarci lo ha consegnato ai vigili urbani di Piazza della Libertà. È un gesto da ammirare per il cittadino, il signore che l'ha riportato, ha riconsegnato questo portafogli, trovato in una zona anche decentrata rispetto al centro storico, parliamo del centro commerciale, zona arancia. Questo signore ha messo in evidenza che il portafogli è stato ritrovato da suo padre, lui onestamente l'ha riconsegnato e all'interno siamo rimasti un po' sorpresi anche noi, il fatto di vedere che la gente che ha verbalizzato il ritrovamento ha notato che all'interno del portafogli vi erano 690 euro, con le numerose carte di credito e con i bancomat. Ma nella vicenda c'è anche una piccola curiosità. La curiosità di questo fatto è che ci siamo talmente, visto l'ha considerato il quantitativo del denaro e tutti i documenti, siamo subito e immediatamente attivati, appunto tale che siamo arrivati, abbiamo contattato il proprietario, il quale è rimasto sorpreso perché non si aveva nemmeno accorto che aveva perso il portafoglio. Il vicecomandante invita quindi Tolentinati a seguire il bel esempio del loro concittadino. Noi siamo sempre qua, disponibili, sempre aperti e operosi per quanto riguarda queste consegne. Ecco, nel ritrovare qualsiasi oggetto, in modo particolare, come in questo caso, portafogli con i vari documenti all'interno, ovviamente non è che vanno destinati a rimanere qui, vanno riconsegnati sicuramente ai recittimi proprietari.